Non con la regina, hai fatto uscire la regina troppo presto. Anche io lo faccio sempre. Ha detto solo questo? Sì, più o meno. Morgan! Lo vuoi sapere un segreto? Non l'ho mai detto a nessuno. Lo sai che sei molto più bravo di me quando avevo la tua età? Grazie. Joshua Waitzkin gioca ancora a scacchi. Attualmente è il giocatore al di sotto dei 18 anni più quotato negli Stati Uniti. Gioca anche a baseball, basket, football americano e calcio. Ed estate va a pesca. Nel settembre del 1992, Bobby Fischer è uscito dal suo isolamento per sfidare il suo antico rivale, Boris Spassky. Subito dopo aver vinto, è scomparso di nuovo. Gioca anche a baseball. 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 Grazie a tutti.